Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Romina Power Shock sui social nelle ultime ore, dove ha ipotizzato la morte di tutte le persone per qualcosa che ci nasconderebbero. Ma il web si è diviso letteralmente a metà, c'è chi ha supportato la tesi della cantante e chi invece ne ha preso completamente le distanze, utilizzando anche termini ironici per punzecchiare la donna. Ma lei ci crede invece fermamente e ha voluto denunciare tutto pubblicamente. Romina Power ha fornito una dichiarazione shock puntando l'attenzione su un avvenimento, proveniente dall'alto. Ha alzato lo sguardo, si è armata sicuramente del suo cellulare e ha scattato una foto per accusare coloro che compiono simili gesti. Lei ha mostrato delle scie presenti nel cielo e ha commentato. E questo sarebbe il volo di un normale aereo di linea? Ma poco dopo si è lasciata andare a un'altra affermazione ancora più forte, che ha fatto riferimento appunto alla possibilità che potremmo anche perdere la vita. L'ex moglie di Albano Carrisi ha aggiunto. Un giorno ci ritroveremo stecchiti come insetti con il DDT. Quindi, per Romina si tratterebbe delle presunte scie chimiche che provocherebbero problemi alle persone. Voi cosa ne pensate?